Bentornati alla vita degli inizi della Chiesa, ultima trasmissione. Abbiamo parlato del monachesimo orientale, ma ora parliamo anche del monachesimo occidentale. Arriva infatti in Occidente il monachesimo in un'età che non possiamo più definire età dei padri della Chiesa. Il Papa e i Vescovi in Occidente favoriscono la forma di vita monastica perché capiscono molto bene che attraverso di essa si allarga la testimonianza cristiana, sia in un ambito culturale e dottrinale, sia in un ambito sociale e caritativo. E' l'ora dunque di parlare di San Benedetto. San Gregorio Magno, il famoso Papa di cui abbiamo già parlato, 50 anni dopo la morte di Benedetto disse di lui l'uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti miracoli, non rifulse meno per l'eloquenza con cui seppe esporre la sua dottrina. E proprio nel secondo libro dei dialoghi Gregorio ne scrive, proprio durante l'invasione Longobarta tra il 593 e il 594. Gregorio Magno, che fu monaco anche lui, scrive di Benedetto per rimarcare che a cavallo tra il V e il VI secolo il mondo vive una crisi scolvolgente, il crollo dell'impero romano, l'invasione dei barbari, il cambio dei costumi che necessitano di una nuova unità. Ecco dove si pone l'opera di Benedetto che si presenta non solo come la realizzazione di una regola monastica, cioè per gente che vuole fare il monaco o la monaca, ma come anche un grande fermento spirituale che segna la vita e il lavoro di tanti e che va oltre la patria e si estende a tutta l'Europa, che allora non si chiamava Europa. Benedetto nacque nel 480 nella valle della Nursia, a Norcia, da genitori cristiani molto benestanti che lo inviarono a Roma a studiare. Una Roma però che a Benedetto non piacque per nulla, non gli piacquero soprattutto i suoi compagni di studi, dissoluti e fondati sul benessere che ormai cristiani avevano in città, e gli aveva, scrive Gregorio, un solo desiderio, soli Deo placere desiderans, desiderava piacere solo a Dio. E così Benedetto compie quel primo passaggio che abbiamo già visto in Antonia, monaco di Egitto, cioè si fa eremita. Andò prima da File, ci andiamo tranquillamente con la macchina, si può ancora visitare, poi si rifugio a Subiaco per tre anni, in solitudine totale, dando al luogo in cui egli abitava il nome bellissimo di Sacro Speco, dal latino specus, ovvero antro o spelonca. Fu un grande tempo per Benedetto di maturazione, di riconciliazione con se stesso, di dominio di se stesso. Non è vero che la solitudine plachi l'animo di per sé, a volte lo riaccende in modo peggiore quando manca di confronto, eppure Benedetto seppe fare della solitudine in un modo intelligente per trovare la grazia di Dio e grazie a Dio la pace del cuore. Però la sua fama di santità, siamo qui a ripeterlo per l'ennesima volta, non rimase nascosta. Si avvicinarono, come già avvenne in Oriente, a lui giovani col desiderio di perfezione e affinché lo potessero eleggere come il loro maestro spirituale. Benedetto lo accettò. All'inizio andò a Vicovaro, presso una comunità già formata, poi però tornò a Subiaco e fondò ben dodici piccoli monasteri, dodici cenobbi, con dodici monaci ciascuno. Ogni monastero aveva un abate e Benedetto era il loro padre spirituale. Pensate, non aveva ancora scritto una regola e questo si manifestò come una grande debolezza, tanto che un prete della zona, si chiamava Fiorenzo, gli rivolse una ostilità e un invidio irriducibile, cercando anche di ucciderlo con la complicità di alcuni suoi monaci. Quest'opera, nella regione di Subiaco, durò circa trent'anni, dal 500 al 529. Accanto a Benedetto ci fu anche Scolastica, sua sorella gemella. Anche lei inviata a Roma, disgustata dalla vita romana, chiese al padre di essere monache in un convento presso Norcia, poi però seguì Benedetto a Subiaco e poi a Monte Cassino, dove si stabilì aprendo una casa di preghiera e di vita comune a Piumarola, dove adottò la regola benedettina. Nel 529 Benedetto lasciò Subiaco e andò verso il Monte Casio o Monte Cassino, sia perché era inseguito dall'odio del prete di qui sopra, sia perché entrò in una seconda fase della sua ispirazione, cioè quella secondo cui la vita monastica era ormai passata dall'eremo al Cenobbio e doveva diventare una vita di testimonianza pubblica nel mondo e nella Chiesa, doveva essere evangelicamente collocata come una città su un monte, come proprio in Monte Cassino, se fate la Roma-Napoli, andando verso Napoli, lo vedete sulla sinistra, è proprio una città collocata su un monte. E fu a Monte Cassino che il monachesimo occidentale prese forma matura, soprattutto con la redazione della regola del 540 o giù di lì. Dovete leggere e conoscere la regola perché capire la santità di Benedetto e la sua grande intuizione sulla vita dell'uomo è un fatto straordinario, ripeto, non solo nella vita dei monaci, ma nella vita di tutti gli uomini che gli riteneva chiamati all'opus Dei, cioè all'opera di Dio. Il primo punto riguarda i monaci è che la vita del monaco è fortemente immersa nella preghiera. Senza la preghiera non c'è l'opera di Dio, l'opus Dei. È una preghiera tendenzialmente corale, infatti è da Benedetto che l'Occidente anche oggi ha imparato a cantare i salmi, i vespri, le lodi, a santificare il tempo. Però una preghiera che non è solo esercizio vocale e ripetitivo, ma che poi riporta ogni momento alla meditazione personale. Benedetto non sta mai fuori dalla realtà. La preghiera non è mai un rifugio dalle assurdità e dalle cattiverie del mondo, a livello quasi di una autosantificazione quasi in vista della morte. Il monaco, infatti, dice Benedetto che prega, deve anche lavorare, ora et labora. Le stesse ore del giorno sono le stesse appunto, sette di preghiera e sette di lavoro. E non immaginiamo il lavoro del monaco come la cultura dei ravanelli, dei carciofini, la confezione delle marmellate. Io mi indigno quando porto qualche persona, qualche laico amico mio in qualche monastero non necessariamente benedettino e trovo spesso suore, se non monaci, che fanno la guida e la prima cosa che ti dicono è che fanno le marmellate o fanno i carciofini, ma vi rendete conto? Questo sarebbe la vita del monaco. Ora, il lavoro del monaco, dice la regola, è la scuola dominici servizi, la scuola del servizio di Dio, allenarsi al servizio del Signore. Lavorare significa servirsi l'un l'altro, come ha insegnato Gesù nella lavanda dei piedi e umiliandosi naturalmente. E così è tratteggiata anche nelle regole in modo bellissimo la figura dell'abbà, l'abbate, il padre della comunità. L'abbate viene letto dai monaci. Pensate che questo evita il terribile centralismo ecclesiastico che sempre peggiora, soprattutto nella nomina dei parrucci e dei vescovi. Ma l'abbate non è un dominus incontrastato, è un padre esigente, severo, inflessibile sui principi, ma anche mite e tenero. Io personalmente ho passato tanti giorni, in 66 anni di vita, nei monasteri benedettini. L'abbate, ho potuto vedere con i miei occhi quanto l'abbate tutto sia, meno che una figura di burocrata ecclesiastico o di capolista elettorale. Benedetto scrive che l'abbate deve essere il primo ad ascoltare e a chiedere il consiglio dei fratelli. E pensate quanto questo sia attuale a 15 secoli di distanza, non solo nelle istituzioni della Chiesa, ma ovunque ci sia qualcuno che abbia poteri e responsabilità di governo. Forse il fallimento drammatico di certe nomine ecclesiastiche è direttamente proporzionale al non aver capito quello che Benedetto dice, cioè che è capace di comandare solo chi è capace di obbedire. E così abbiamo davvero finito. Grazie dell'ascolto, a presto.